Da due anni non si ricevono finanziamenti da parte del Ministero dell'Istruzione e soprattutto a Gela ci sono famiglie che non riescono ad acquistare libri per i propri ragazzi. L'Istituto Ettore Magnoli, sempre sensibile alle esigenze della collettività, ha pensato bene di coinvolgere il Lions del Golfo di Gela e questa mattina, durante un incontro che si è svolto nell'ufficio di Presidenza, è stata consegnata una somma in denaro per l'acquisto di 25 libri da dare in comodato d'uso a chi non è nelle condizioni di acquistarli. Noi siamo stati felicissimi di accogliere la richiesta fatta dalla dirigente Sandra Scicolone della scuola media Ettore Magnoli e questo sul suggerimento anche di un nostro socio, il grandissimo Giorgio Vindigni, che è stato molto sensibile alla tematica che ci è stata proposta. Si parlava di famiglie indigenti che purtroppo non avevano la possibilità di comprare dei testi dove studiare e come diceva la dirigente Pocanzi potrebbe essere questo anche un modo di discriminare purtroppo alcuni ragazzini che si trovano nel corso di studio e con un piccolo gesto, non vogliamo assolutamente dire che abbiamo fatto un grosso gesto, un piccolo gesto, siamo riusciti a dare questo servizio di acquisto di questi testi. Un importante momento di collaborazione tra due realtà, scuola e club service, che operano nella formazione e nel sociale a dimostrazione che in nome della solidarietà si può agire in concreta sinergia a favore dei più deboli. Con questa iniziativa altro si fa se non confermare un rapporto molto forte e molto concreto di collaborazione per venire incontro a quelle che sono le esigenze della popolazione scolastica. La Romagnoli è impegnata su tanti fronti e il fronte che però sta forse più a cuore di chi opera all'interno di questa scuola è il benessere dei nostri ragazzi. Il benessere dei ragazzi può anche passare attraverso il possesso o meno di un libro. Il disagio che può determinare per un ragazzo la mancanza di un testo rispetto ai propri compagni può travolta essere foriero di elementi di grande allontanamento dal mondo scolastico perché il disagio dovuto alla mancanza del sussidio didattico, che poi non è una cosa così importante ma è importante ai fini della vita all'interno della scuola, diventa veramente un elemento determinante. Venire incontro alle esigenze di alcuni dei nostri ragazzi con difficoltà su richiesta tra l'altro delle famiglie per noi non può che essere un motivo di gioia, tanto più se determinato dalla collaborazione con un'associazione, un ente, un club service in questo caso, che veramente si dimostra molto sensibile.